Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Però devo riconoscere questa volta, chapeau. Ma non so se porterà voti, però sicuramente porta un consenso diffuso e comunque un'approvazione che arriva, come dicevi, anche io ho raccolto tante, poi anche le leggiamo, noi anche i commenti di oggi, anche gli osservatori, gli editorialisti, le editorialiste, tutti hanno approvato questa scelta. E sicuramente questo centra anche poi, si proietta sul modo di essere leader di una persona che è una leader, è presidente del consiglio, è una donna che ha un incarico pubblico e che incrocia in questo modo pubblico e privato. Quindi credo che sicuramente le abbia aumentato l'apprezzamento al di là delle sue idee. Quindi che si traducano in voti, non lo so, in empatia, simpatia e consenso, anche perché è stata capace, secondo me stima, anche da parte degli avversari che resteranno avversari, credo che sia così. Sicuramente non glielo fa perdere. Ah no, di sicuro. Sabine, in questa vicenda tutte le donne sono uscite davvero bene. A me, non dico che ha colpito perché ne sono anzi stato favorevolmente, è una conferma, ma l'atteggiamento.